Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi, nuovo video! Come al solito vi ricordo che se vi va, potete anche seguirmi su Instagram, ma soprattutto vi ricordo che è uscito il mio shop e vi lascio tutte le informazioni qui sotto nell'info box. Detto questo, diamoci dentro quel video. Oggi sono qui per parlarvi di un caso che mi avete richiesto nei Google Docs. Sono qui per raccontarvi la triste vicenda di Francesca Ferraguto. Ma andiamo con ordine. Francesca, detta Chicca, nasce il 12 agosto del 1987 a Catania e cresce ad Augusta, un comune italiano del libero consorzio comunale di Siracusa, in Sicilia. Francesca si sarebbe dovuta chiamare Claudia, se fosse stato solo il papà a sciogliere il nome, in onore di Claudia Mori, la moglie di Adriano Celentano. Invece, per la seconda figlia, dopo una prima avuta in un precedente matrimonio, insieme a Rosetta decidono per Francesca, come la nonna materna, nel rispetto della tradizione siciliana. Il papà di Francesca, che di nome fa felice, è fortemente legato alle sue origini augustane. Porta lì a vivere la sua famiglia e fa crescere Francesca, così come gli altri due figli, Michele e Noemi. Francesca adora la festa padronale di Augusta, perché partecipa sempre con i nonni materni. Sono dei commercianti, che dal capoluogo etneo giungono direttamente nell'isola, portando con sé la loro bancarella. Francesca, da piccola, seconda molto suo padre. È un uomo che ama la vita e la musica. È un fan appassionato di Adriano Celentano e spesso lui e Francesca giocano ad imitarlo. Felice conosce tutte le sue canzoni a memoria e quindi le insegna ai suoi tre figli. Poi insieme giocano a travestirsi col cappello, gli occhiali da sole e una piccola chitarra giocattolo. Ebbene, Francesca adora quella chitarra giocattolo e adora le canzoni di Adriano Celentano, tanto che in occasione di due feste alla chiesa Santa Lucia, la ragazza canta una carezza in un pugno e azzurro. Rosetta, la mamma di Francesca, ricorda la sua prima figlia come una giovane donna dal carattere molto forte e ribelle. Il sorriso di Francesca è stampato in tutte le foto di famiglia. È una ragazza solare, sempre sorridente. È inoltre molto vivace, ma è anche molto ubbidiente quando è piccolina. Quando cresce Francesca si lega ad un ragazzo, quello è il suo primo amore, ma i suoi genitori lo ostacolano e lo fanno in ogni modo per proteggerla, non per altro. Alla fine quel primo amore per Francesca non dura molto e quando torna ad essere single inizia ad essere un po' più ribelle e a fare un po' di testa sua. I suoi genitori, un po' per amore, un po' per paura di sbagliare, la lasciano fare. Francesca è libera e avventurosa, sogna di girare il mondo, sogna di fare tanti viaggi. La ragazza frequenta le scuole elementari e le scuole medie all'istituto comprensivo Domenico Costa. E poi, anche se avrebbe voluto iscriversi al liceo artistico di Siracusa, prosegue i suoi studi al liceo scientifico per accontentare i suoi genitori, che sono molto protettivi nei suoi confronti. Infatti hanno una gran paura di lasciarla viaggiare da sola in autobus a quell'età. Francesca, alla fine, la scuola la lascia al terzo anno, nonostante la bravura e la passione per la scrittura e il disegno, nonostante l'ammirazione che le insegnanti nutrono per lei. Infatti, spierano sempre di vederla tornare tra i banchi di scuola. Ma Francesca ha già preso la sua decisione, vuole diventare grande, vuole lavorare. Viene assunta in diversi supermercati e in diversi bar. Suo padre Felice, però, non apprezza molto la sua volontà di essere libera e con Francesca ci litiga parecchio. Così, all'età di 18 anni, Francesca lascia l'abitazione dei suoi genitori per convivere con Angelica, sua cugina. Francesca lavora in un bar per mantenersi, ma dopo sette mesi deve tornare a casa, perché non riesce più a pagare l'affitto da sola, dato che Angelica si trasferisce lontano per lavoro. Siamo nel 2006, quando Francesca incontra un collega di suo padre, di nome Gianfranco Bari. Quest'ultimo si reca a casa della donna per ripararle il picci su richiesta di suo padre Felice. Gianfranco è un uomo molto chiuso e riservato, ma ha in comune con Francesca un rapporto conflittuale con il padre. La sua balbuzia lo rende molto chiuso verso gli altri, tranne con Felice. Il padre di Francesca, con cui effettivamente è amico. Lavorano insieme alla raffineria petrolifera di Augusta. Quando Gianfranco vede Francesca rimane molto colpito, anche se l'aveva già notata anni prima, quando era piccola. Gianfranco decide di mettersi in contatto con lei, quindi la contatta via chat sotto il falso nome di Gianpaolo, dando il via ad una lunga corrispondenza. Francesca in realtà non sa di parlare con Gianfranco e si innamora di questo uomo, che tra l'altro sembra conoscerla perfettamente. Chiaramente Gianfranco sfrutta l'amicizia col padre di Francesca, Felice, per conquistare la ragazza, acquisendo da lui molte informazioni sulla sua vita e sul suo carattere. I due si sentono per quattro mesi, poi l'uomo le rivela la verità, o meglio, le rivela la sua vera identità. Raccontandole anche di essere sposato e di avere tre figli, ha però lasciato la moglie, dato che si è innamorato di lei. Poco dopo le scrive, peraltro, una lunga lettera in cui dichiara di averla amata anche in precedenza, quando era una bambina e la vedeva con suo padre. Insomma, che succede? Gianfranco col tempo conquista la fiducia di Francesca. La ragazza inizialmente mente alla sua famiglia dicendo di essersi fidanzata con un giovane che lavora in marina di nome Gianpaolo. Passa poco tempo e, dopo un litigio avvenuto col padre, Francesca decide di trasferirsi a casa del suo compagno e quindi di dire la verità alla sua famiglia. Allo stesso tempo, mentre si trova in fabbrica, anche Gianfranco rivela a Felice di avere una relazione con sua figlia Francesca. I due uomini a questo punto litigano perché Felice non accetta la situazione e ritiene che la differenza di età tra Gianfranco e sua figlia sia eccessiva, non trascurando la vicenda familiare e personale dell'uomo. Col tempo però Felice inizia ad accettare questa relazione, anche perché Gianfranco prova in tutti i modi a far riavvicinare Francesca e suo padre Felice. Nel frattempo i tre figli di Gianfranco vengono affidati a lui su decisione del Tribunale dei Minori, ma l'uomo sceglie di prendere loro una casa nelle vicinanze per farli accudire da una governante, insomma non vuole che vivano con Francesca. Poco dopo licenzia la sua governante e lascia i suoi tre figli dai suoi genitori. Nel frattempo nella coppia maturano i primi litigi, che si fanno mano a mano sempre più forti e opprimenti. Gianfranco non accetta nulla di quello che Francesca fa e piano piano l'allontana dai suoi amici. Purtroppo queste dinamiche accadono, avvingono in tutte le relazioni tossiche. Francesca in questo momento lavora in un supermercato e cerca di mantenere il segreto su quanto sta accadendo, ma un giorno sua madre si accorge che ha dei lividi sul viso. Francesca scoppia a piangere e racconta del forte controllo esercitato da Gianfranco su di lei. È in questa occasione che la madre suggerisce a Francesca di lasciare immediatamente Gianfranco. Lei però, ahimè, non se la sente. È il febbraio del 2009 quando Gianfranco compra una casa molto grande da ristrutturare e in attesa di completare questi lavori di ristrutturazione, decide che entrambi temporaneamente devono dormire presso le rispettive famiglie. Francesca dunque torna a casa e suo padre felice si rende conto dei lividi che ha in faccia. Come è giusto che sia l'uomo è molto arrabbiato e suggerisce a Francesca di chiudere immediatamente la relazione. La situazione precipita ulteriormente quando Francesca scopre che Gianfranco ha un'indole intima molto violenta. Scopre peraltro un video che l'uomo ha girato con sua nipote. Un video che poi ha caricato su dei siti. E ci siamo capiti. A quel punto Francesca sente davvero che è giunto il momento di lasciarlo. Ma nel timore di ulteriori conseguenze. E non sapendo come fare, resta con lui. Arriva il 25 maggio del 2009 quando Francesca passa a casa dei suoi genitori per comunicare loro l'intenzione di lasciare quell'uomo. Ma si blocca vedendo suo padre in casa. Felice si arrabbia sempre tantissimo quando Francesca parla di Gianfranco. Quindi non vuole dire nulla in sua presenza. Arrivano le 19 di sera e Francesca si arrega dall'estetista accompagnata da Gianfranco. In auto scoppia un'ennesima lite poiché l'uomo le mente in continuazione. E proprio in quel momento, in quella vettura, finge di parlare al telefono con sua madre. Quando in realtà sta chiamando, sta parlando al telefono con la sua ex moglie. Ovviamente questa situazione appare molto ambigua a Francesca. E vorrebbe vedere. La ragazza dunque giunta dall'estetista si confida con lei. Perché è davvero molto tesa. Ha bisogno di parlare con qualcuno. Non sorride come al solito ed è molto molto agitata. Quindi Francesca racconta l'accaduto. E quando esce dal negozio dell'estetista, si rende conto che è ancora presente Gianfranco ad aspettarla. Ed è furibondo. La coppia litiga furiosamente, sia in strada che in auto. Mentre si dirigono a casa, dove la discussione prosegue, e i toni si fanno sempre più accesi. I due litigano perché a quanto pare Francesca a questo punto si rifiuta di prendersi cura dei tre figli di Gianfranco. Inizialmente, se ricordate, Gianfranco non voleva che Francesca vedesse i suoi figli. Ma col tempo, chiaramente, le cose erano cambiate. E Francesca, qualche volta, si è presa cura dei figli del suo compagno. Gianfranco, a questo punto, perde il controllo. È arrabbiatissimo. E non riesce a trattenersi. Colpisce Francesca, più volte, alla testa, sia a mani nude che, probabilmente, con una sbarra di ferro che, però, non è mai stata ritrovata. Francesca, a questo punto, cade, battendo la testa contro un mobile o contro il pavimento e morendo sul colpo. A questo punto Gianfranco premedita un piano per liberarsi del corpo della donna senza apparire colpevole. La mattina del 26 maggio, quindi il giorno dopo, prende il telefono di Francesca e manda un messaggio a sua suocera, ossia la mamma di Francesca. Fingedosi Francesca, l'uomo fa credere che la donna voglia restare un po' per i fatti suoi, per staccare la spina da tutto e tutti. Allo stesso modo invia anche un messaggio analogo al suo stesso numero, dicendo esattamente la stessa cosa. In scena, in questo modo, un allontanamento volontario da parte di Francesca. Per liberarsi del corpo, Gianfranco crudelmente lo depezza in nove parti usando una sega elettrica utilizzata per tagliare materiali duri, come il marmo. E chiude tutto all'interno di alcuni sacchi della spazzatura. Poi contatta anche la nonna di Francesca, chiedendole se si trovasse da lei, fingendo di non averla trovata a casa e di aver ricevuto uno strano messaggio. Il piano di Gianfranco ha ufficialmente inizio. La mamma di Francesca, dopo aver ricevuto la chiamata dalla nonna di Francesca, contatta Gianfranco per capire meglio la vicenda, vuole sapere come siano andate le cose. L'uomo appare molto turbato, si mostra sconcertato e convince la suocera dell'allontanamento volontario di Francesca. Rassicurandola sul fatto che anche in passato, quando litigava col padre, Francesca era solita allontanarsi da casa per poi ritornare sui suoi passi. In un primo momento la madre di Francesca crede alle sue parole. Nel frattempo Gianfranco che fa, esce e si disfa del corpo di Francesca, sotterrando i sacchi in una buca molto profonda. Per evitare che i vicini possano sentire l'odore, uccide un gatto e lo fa a pezzi lasciandolo in un angolo per non destare sospetti. Più tardi Gianfranco si reca a Catania e dal cellulare di Francesca manda un messaggio al proprio numero e a quello della madre, della donna. Quest'ultima però a questo punto si insospettisce, credendo che ci sia altro dietro questa vicenda. E a sua volta manda un messaggio alla figlia, chiedendole di fare almeno una telefonata per tranquillizzarla. Con il passare dei giorni senza ricevere risposta ai messaggi e alle chiamate rivolte alla figlia, essendo a conoscenza della situazione esistente nella coppia, la madre di Francesca si reca dai carabinieri per denunciarne la scomparsa. La famiglia successivamente si rivolge al programma televisivo Chi l'ha visto? Mentre Gianfranco continua ad andare e tornare da Catania, continuando con le sue attività di depistaggio. Si ferma alla stazione dei treni e lascia lì l'auto di Francesca per farla ritrovare dai carabinieri. A questo punto facciamo un bel salto in avanti perché è il 10 giugno del 2009, quando Gianfranco viene convocato dai carabinieri che hanno trovato l'auto di Francesca, e dunque chiedono all'uomo la sua versione dei fatti. Gianfranco racconta agli investigatori che la sera del 25 maggio lui aveva accompagnato Francesca dall'estetista. In serata era passato a riprenderla e insieme avevano mangiato un panino fuori, poi alla fine erano tornati a casa loro. Una volta arrivati a casa tra i due era scoppiato un litigio, l'ennesimo, anche dalle testimonianze di amici e parenti della vittima. Emerge che la relazione tra i due fosse a tratti burrascosa. Dopo la litigata, dice Gianfranco, era andato a farsi una doccia, e mentre era in bagno aveva sentito il rumore della porta di casa che si chiudeva con violenza. Francesca era andata via. Ai carabinieri però questa storia non convince, iniziano a dubitare di lui, quindi lo intercettano. Mettono sotto controllo il suo cellulare, e a questo punto Gianfranco fa un gravissimo errore. Per un breve momento sostituisce la scheda telefonica del cellulare di Francesca, mettendola nel suo cellulare. È ovvio che in questo momento i carabinieri sospettano che Gianfranco abbia in mano anche il telefono di Francesca e di conseguenza anche la sua sim. Infine Gianfranco cosa fa? Sale su un treno diretto per Milano e prima della partenza nasconde il cellulare acceso nell'imbottitura di un sedile e scende. Il telefono di Francesca parte da solo per Milano, per poi tornare qualche giorno dopo, ormai spento, ad Augusta. I carabinieri intanto presidiano le stazioni di Catania e di Augusta, ma su quel treno dove Francesca non è mai salita ovviamente non c'è traccia della ragazza. Questi spostamenti virtuali di Francesca trovano eco, spiegano gli investigatori, anche nella trasmissione Rai chi l'ha visto, che si occupa del caso in più di un'occasione. Tutto ciò in effetti sembra dare credito all'alibi di Gianfranco Bari, ma il PM Emanuela Cavallo è convinta che quella di Francesca non sia una sparizione volontaria e quindi va dritta per la sua strada. Manuela Cavallo presume che Gianfranco Bari abbia ucciso Francesca e stia provando a depistare le indagini. Dunque che succede? Ebbene Gianfranco viene convocato in caserma e viene interrogato per lunghe ore, specialmente sulla vicenda della simcard. Gianfranco appare titubante e poco collaborativo nel ricostruire, nuovamente gli ultimi momenti passati assieme alla vittima, innescando ancora di più il sospetto che potesse celare particolari che in qualche modo lo potessero danneggiare. Alla fine però cede Gianfranco e racconta di aver ucciso Francesca involontariamente dopo una collutazione. È lo stesso Gianfranco ad accompagnare i carabinieri sul luogo di sepoltura del corpo di Francesca, facendo quindi ritrovare i suoi resti. Per l'esattezza si trova in contrada a pezza grande, non troppo lontano da Augusta. I resti dunque vengono recuperati e sono soggetto di esame del DNA da parte del RIS dei carabinieri per attribuirne la legittima corrispondenza a Francesca Ferraguto. I carabinieri sottopongono Gianfranco Bari a fermo di indiziato di delitto, con l'accusa di omicidio e occultamento di cadavere. Prima della lettura del dispositivo di sentenza, Gianfranco Bari rende delle dichiarazioni spontanee per dire che non aveva alcuna intenzione di uccidere Francesca, ma ha anche specificato che con la sua fidanzata i rapporti erano ormai divenuti tesi e insanabili, a causa delle eccessive spese che lei effettuava per mantenersi lobby, di assumere delle sostanzine non legali. Vero o falso? Purtroppo non ci è dato saperlo. Ma se fosse falsa, credo sia terribile che un uomo, dopo aver ucciso la compagna in tal modo, cerchi di giustificarsi, dicendo una cosa del genere che obiettivamente non rispetta neanche la memoria di quella persona. Gli abitanti di Augusta provano orrore e sgomento, perché mai nel loro territorio si era verificato un delitto così atroce. Profondamente turbati sono coloro che si ricordavano di Francesca, che lavorava in un supermercato cittadino. C'è dell'orrore dipinto sui volti dei suoi coetanei, molti dei quali avevano appreso la notizia attraverso il televideo. In primo grado Gianfranco Vari viene condannato a vent'anni di carcere. Il gruppo Michele Consiglio esclude l'aggravante della crudeltà, non accogliendo quindi la richiesta dell'ergastolo fatta dal PM. La sentenza getta nello sconforto i genitori di Francesca, tutelati in giudizio dall'avvocato Pegnamino d'Augusta. Non viene fatto nessun commento dal pubblico ministero, che comunque non escludeva affatto di impugnare il verdetto del GUP. Dall'altro lato invece c'è una grande soddisfazione per la sentenza del GUP che viene espressa dall'avvocato Giuseppe Cristiano, il difensore di Gianfranco Vari. Il penalista aveva auspicato l'esclusione della circostanza di aver agito con crudeltà. Perché? Perché prima gli atti d'indagine e poi lo psichiatra, che ha sottoposto a consulto l'imputato, hanno escluso che la povera Francesca avesse sofferto per le percosse subite dall'omicida. È stato un omicidio d'impeto e non c'è stato alcun accanimento da parte di Gianfranco Vari, atto ad allungare la sofferenza della vittima prima che la stessa morisse. In effetti, secondo quanto accertato dai carabinieri, e anche sulla confessione resa dallo stesso imputato, nel momento in cui è stato arrestato, Gianfranco Vari ha colpito a mani nude o con un corpo contundente la povera Francesca, la quale, battendo il capo contro un mobile o il pavimento, è morta sul colpo. Poi, ma già con l'avvenuto decesso della giovane donna, Gianfranco Vari ha fatto scempio del suo cadavere, stegandolo a pezzi con il flex. Ma questo macabro cerimoniale avviene immediatamente dopo il decesso della povera Francesca Ferraguto, quando non può più sentire alcun dolore. Poi, tutte le parti anatomiche staccate dal corpo di Francesca, l'assassino, le getta all'interno di alcuni sacchi grandi della spazzatura. Quindi, prende i sacchi con all'interno i resti umani della povera Francesca, e li mette nel bagagliaio della propria auto. Dopodiché, senza essere visto da occhi indiscreti, Gianfranco Vari si dirige alla volta della campagna di proprietà dei suoi genitori. Prende una vanga, inizia a scavare una profonda fossa, all'interno della quale adagia i sacchi di plastica, per poi ricoprirli di terra. Ritornato a casa sua, Gianfranco Vari medita a lungo su come giustificare la scomparsa di Francesca. E quando trova la soluzione, esce di casa e racconta alla mamma della vittima che sua figlia, mentre lui era sotto la doccia, era scappata via. Gianfranco Vari si preoccupa di non illudere i genitori di Francesca. Insomma, secondo i fatti, ci prova. Infatti dice alla madre che sua figlia era andata via con l'intenzione di rifarsi una nuova vita lontana da Augusta. E in effetti di Francesca non si è trovata traccia per diversi mesi. Ma nessuno, neanche gli inquirenti, hanno mai pensato che fosse stata uccisa. Grazie alle bugie di Gianfranco Vari, che ha avuto anche l'ardire di farsi intervistare alla trasmissione chi l'ha visto, i genitori di Francesca hanno coltivato la fiammella della speranza che la figlia fosse viva. Le speranze si sono distolte il 25 ottobre 2009. Della distruzione del cadavere di Francesca Ferraguto, l'imputato viene riconosciuto colpevole. La Cassazione, infine, conferma la condanna di Gianfranco Vari a 18 anni di reclusione. C'è una grande commozione e partecipazione ai funerali di Francesca. Nella chiesa di Santa Lucia ad Augusta c'è la presenza massiccia di persone di ogni ceto e hanno portato il loro conforto provando rabbia e irritazione. Con compostezza e silenziosamente hanno ascoltato l'omelia del ministro del culto e quando la messa è giunta al termine ognuno ha voluto sostenere con un fiore, con abbracci di coinvolgimento, l'affetto e l'avvicinanza ai familiari e non solo. Le luci ora sono spente e Francesca riposerà in un luogo in cui nessuno le farà più del male. Di questa triste parentesi ci ricorderemo sempre due persone. Una ragazza con la voglia di vivere, di amare e di lottare contro le insidie che però ha commesso un errore. Il suo unico errore è stato quello di trovarsi in un momento sbagliato insieme alla persona sbagliata. L'altro personaggio non oserei delimitarlo, il quale ha mostrato violenza, rabbia e odio verso una donna. Perché è chiaro che chi usa violenza non deve avere alcun riguardo. Questa brutta storia ci deve far riflettere. Dovremmo augurarci che in futuro non ci siano analoghi episodi anche se purtroppo si sono verificati e continuano a verificarsi. Chiunque abbia anche solo il sentore di un tentativo di violenza non abbia timore di manifestarlo ai vari organi di competenza. Solo così possiamo e dobbiamo vivere in un mondo civilizzato. Francesca, come tante e troppe donne che ogni giorno perdono la vita per mano del marito, del partner o dell'ex era ignara dell'amaro epilogo a cui sarebbe arrivata la sua vita. Per Francesca, quel 25 maggio del 2009, è come se fosse iniziata una missione e noi non possiamo che esserne ausiliari. Il nostro compito è ricordarla ogni giorno e far sì che la sua storia possa non essere la storia di tante altre donne. Il nostro compito è ricordarla ogni giorno e far sì che la sua storia possa non essere la storia di tante altre donne che ogni giorno sono vittime di violenza. Il nostro compito è quello di porgere la mano a tutte le vittime di violenza per aiutarle a rialzarsi. Per questo motivo, a mio parere, è fondamentale il gesto che ha compiuto il comune di Augusta, ossia la città di Francesca. Tramite l'amministrazione, compie un primo passo verso le donne intitolando una via pubblica a Francesca Ferraguto. La mamma di Francesca confida la Gazzetta Augustiana nel maggio del 2018 a nove anni dalla morte di Francesca, questo. L'unico errore che Francesca ha compiuto nella sua vita nella nostra vita splendida prima di quel maledetto giorno è stato fidarsi di tutti e di tutto ciò che le ispirava fiducia e simpatia. Vedeva il buono nella gente e mai la cattiveria che esiste e noi lo sappiamo. Era l'amica delle amiche e degli amici, c'era per tutti coloro che avevano bisogno di lei. Proteggeva, ma soprattutto Francesca perdonava. Il papà ricorda la figlia come una ragazza con il suo stesso carattere. Sicuramente altruista, che poi però la vita ha punito con porte chiuse e disgrazie. La forza che unisce la famiglia di Francesca risiede anche nel messaggio che si intende lanciare, come emerge dalle parole della signora Rosetta, ossia dalla mamma di Francesca. Francesca ha iniziato a farmi intuire che qualcosa non andasse nel suo rapporto con Non riesco ancora a dargli un nome. Solo negli ultimi mesi prima di morire così brutalmente non ha avuto il tempo per difenderla e riportarla a casa. Le consigliavamo, ma lei era sempre ostinata a restare con lui, che solo lui amava tanto. Ora, a prescindere o meno dalla felicità o dai dolori provati anche dai nostri figli, ciò che voglio dire ai ragazzi di oggi, compresi i miei figli, è di essere confidenti con i loro genitori e a questi ultimi di non far mancare mai tempo ai loro figli. Nel bene e nel male, un genitore è l'unico che può capire quando un figlio si trova in difficoltà, l'unico che non deve mai smettere di stare loro vicino e dare attenzione. Io provo ancora a stare accanto a Francesca, che mi direbbe di continuare a lottare contro la violenza. Piaga ormai insostenibile. Dunque, la morte di Francesca si origina a seguito di un conflitto molto violento, una lite, in cui si è verificata una perdita di controllo da parte di Gianfranco Bari, che ha raggiunto l'apice con l'uccisione di Francesca. In sostanza si tratterebbe di omicidio d'impeto. Il fattore principale è quello razionale. Nella coppia, infatti, sono prevalse le azioni aggressive e prive di controllo di Gianfranco Bari a discapito di Francesca Ferraguto. La personalità dell'uomo ha giocato sicuramente un ruolo decisivo, in quanto si tratta di un soggetto violento e ipercontrollante verso la partner, ma dotato di scarso controllo circa i propri impulsi. Non si tratta certo di omicidio premeditato e anche per questo motivo non è stato dato l'ergastolo all'assassino, non essendo emerso nel fattore della premeditazione né quello della crudeltà. Tuttavia è molto importante ragionare su ciò che è accaduto dopo l'uccisione di Francesca, che rende il modus operandi di Gianfranco Bari particolarmente aggressivo e privo di scrupoli. Il modus operandi rappresenta tutto ciò che è funzionale all'effettuazione del delitto. Quando si parla di scena del crimine occorre in primo luogo chiarire che possono esistere, anzi il più delle volte esistono, per un omicidio diverse scene del crimine. Una scena primaria, ovvero il luogo in cui ha avuto origine il primo atto criminale. Una scena secondaria dove sono avvenute tutte le azioni successive relative sempre allo stesso delitto o anche scene multiple, ossia più luoghi in cui l'autore si muove per completare il suo piano criminale. Rispetto alla morte di Francesca abbiamo una scena primaria, che è la casa in cui viveva con Gianfranco Bari e rappresenta il luogo in cui è avvenuto concretamente il delitto. Abbiamo una seconda scena data dai sacchi e dal bagagliaio dell'automobile di Gianfranco Bari utilizzata per nascondere e trasportare il corpo della povera Francesca e la fossa in cui il corpo della donna è stato definitivamente abbandonato. In questo caso, in effetti, compaiono anche delle scene multiple perché Gianfranco Bari, per depistare le indagini, si sposta col treno in macchina in diverse direzioni fingendo di essere Francesca. E' molto importante, in presenza di tutte le altre scene del crimine, poter risalire sempre a quella primaria perché queste consentano di capire più chiaramente possibile la dinamica avvenuta. La scena del crimine, in questo caso, è stata alterata per depistare le indagini successive. Vi è stata inoltre una messa in scena in cui l'autore del reato ha tentato di far passare la morte della vittima come un allontanamento volontario, attuando diverse azioni finalizzate a far credere tale verità. Insomma, questo uomo ha fatto molti appelli in televisione, ma faceva continuamente appelli su Facebook anche. Infine, vi è stato il depezzamento che, in un certo senso, pur essendo realizzato con lo scopo di occultare il cadavere, è comunque un modo per lasciare un segno definitivo sulla vittima. In questo caso, la vittima è stata dilaniata completamente. Il depezzamento, in ambito criminologico, rientra nelle manipolazioni realizzate post-mortem per disfarsi praticamente del cadavere o rendere difficile la sua identificazione. Nel caso di Francesca, infatti, lo stato del ritrovamento del cadavere ha richiesto una necessaria conferma del DNA, pur essendo stato lo stesso Gianfranco Bari a far ritrovare i resti. Se l'omicidio non appare premeditato, tutte le azioni e i comportamenti realizzati post-mortem invece lo sono stati e, a mio avviso, ci danno una chiara comprensione della personalità di Gianfranco Bari. Il gruppo, però, ha riconosciuto l'uomo colpevole dei reati di omicidio volontario e distruzione del cadavere, a risarcimento dei danni a favore del padre, della madre e dei due fratelli di Francesca. Ma ciò non basterà mai a dare giustizia alla morte di una povera donna? Massacrata e fatta a pezzi in un modo che, a me, onestamente, appare decisamente crudele e razionale, ante e post-morte. Detto questo, ragazzi, io ho finito di parlare in questo video, spero vivamente che questo video possa essere stato di vostro interesse. Fatemi sapere quello che pensate di questo caso, conoscevate soprattutto questo caso? Scrivetemi quello che volete qui sotto, nei commenti. Nel frattempo vi mando un bacione e noi ci vediamo prestissimo al prossimo video. Mi raccomando, fate i bravi e continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene, ma soprattutto prendetevi cura di voi e fate ciò che vi rende felici. Basta che non fate nulla di criminale. Ciao a tutti! Ciao a tutti!